Buonasera a tutti, ciao sono Barbara, benvenuti alle nostre storie tra le stelle. Oggi 3 maggio, giornata fatidica perché domani finalmente è 4, questo 4 maggio che abbiamo aspettato con tanta apprensione ma nello stesso tempo anche con felicità. È vero domani non usciamo dalla quarantena, non si torna definitivamente alla normalità ma ci vorrà ancora un po' di tempo, però domani possiamo finalmente rincontrare i nostri cari che non vediamo da quasi due mesi e poi domani si potrà riprendere ad andare a correre, insomma fare attività all'aperto e anche questa è una grande notizia e magari potendo andare all'aperto si potrà anche osservare il cielo da qualche parte insomma lontana dal centro della città, chissà sempre nel rispetto delle regole proveremo a farlo. Intanto oggi continuiamo con le nostre storie da casa, sperando che sia una delle ultime puntate da casa, magari prossimamente potremo continuare all'aperto e magari anche incontrarci all'aperto. Intanto questa settimana poi faremo anche una diretta sulla luna piena, io spero ovviamente di poterla fare all'aperto magari assieme al mio collega, chissà vedremo, per il momento non vi dico niente di certo perché vogliamo capire meglio quali sono insomma le normative sugli spostamenti eccetera. Parliamo però dell'argomento di oggi, le Eta Aquaridi, che cosa sono? Allora sono uno sciame di meteore, quindi di stelle cadenti, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, abbiamo parlato di comette, le comette sono collegate appunto allo sciame di meteore, in questo caso specifico, la cometa legata, diciamo la cometa che ha causato se possiamo dire così questo sciame è la famosissima cometa di Alley, la cometa forse più famosa perché è periodica, ripassa circa ogni 76 anni, quindi la conosciamo abbastanza bene. Pensate che di questa cometa si hanno notizie nei documenti già nel 66 d.C. e soltanto nel 1758 gli è stato appunto dato il nome di cometa di Alley, proprio dallo studioso Alley che aveva capito che questo oggetto nel cielo ripassava appunto periodicamente, aveva calcolato anche il periodo, anche eventuali ritardi dovuta alla forza di gravità di Giove, di Saturno e pensate i suoi calcoli erano stati perfetti, la rividero passare o meglio la rividero passare nel 1758 come Alley aveva previsto. Purtroppo però Alley non ci fu ad osservare il suo successo perché morì qualche anno prima, però ovviamente il suo successo rimase e appunto dedere il nome a questa famosissima cometa che è passata l'ultima volta vicino a noi nel febbraio dell'86, io me la ricordo, è stata una delle mie prime osservazioni di comete e ripasserà nel 2061. Questa, per vedere questa, vi do appuntamento e penso proprio che nel 2061 non saremo più in quarantena, quindi speriamo di vederla all'aperto, chissà, magari tutti quanti insieme, non bisogna mai pensare che le cose siano impossibili. Allora, però parliamo di queste Eta Aquaridi. Le Eta Aquaridi, pensate che c'è, sembrerebbe stato ritrovato anche un geroglifico, chiamiamolo così, dei Maya, in cui si parlava probabilmente proprio di questo sciame meteorico, quindi pensate da quanto tempo è presente nel nostro cielo, quindi da quanto tempo passa la cometa di Alley e così tante altre comete e così tanti altri sciami meteorici che, insomma, passano nel nostro cielo. Questo sciame meteorico non è famosissimo perché, diciamo che non è molto, non sono tante le meteore, ecco, è famoso più che altro per la cometa di Alley, però in alcuni periodi, insomma, quando le notti sono limpide e non c'è la luna piena, siamo riusciti a vedere tante meteore. Quest'anno ci sarà la luna piena, il picco sarà esattamente il 6 maggio, quindi saremmo proprio disturbati dalla luna piena che appunto è piena tra il 6 e il 7, però, insomma, se aspettiamo gli orari tardi, diciamo così, le 4 del mattino, orario in cui sorge proprio la costellazione dell'acquario, dove è presente appunto il punto radiante di questo sciame meteorico, che si chiama Eta Aquaridi per questo motivo, magari potremmo riuscire a vedere qualcosa perché la luna tramonta e quindi al buio si potrà vedere qualcosa. Intanto andiamo a vedere dov'è la costellazione dell'acquario e dove possiamo osservarle. Venite con me! Allora, rieccoci nel nostro cielo. C'è la luna in fase crescente, eccola qui, e siamo proprio alle, intorno alle, eccoci qua, 21 e 51. Siamo, insomma, in diretta dal cielo, diciamo così. Prima di andare avanti però vediamo anche le costellazioni. Eccoci qua, quindi oggi quando osservate la luna sappiate che è nella testa della vergine. Poi abbiamo la bilancia, ma andiamo avanti. Leone, abbiamo l'idra, il corvo, abbiamo la stella Arturo, là in alto, ecco la bilancia, lo scorpione, abbiamo lo fiuco, il famoso uomo con il serpente in mano, il sagittario. Mi fermo un attimo perché noi adesso siamo a sud, ma spostiamoci un attimino verso est, eccoci qua. Siamo intorno alle tre e mezzo del mattino, vedete? Qua c'è Giove, qua c'è Saturno e qua c'è Marte, tutti vicini al Capricorno e qua sta sorgendo l'acquario e già si intravede, appunto, ecco qui vedete, il punto radiante dello sciame meteorico di cui stiamo parlando. Quindi sorgerà intorno alle tre del mattino, tre e mezzo del mattino e diciamo che è un orario buono per osservare le stelle cadenti. Ovviamente voi direte stiamo dormendo, lo so, però osservare il cielo ogni tanto implica l'alzarsi presto o il non andare a dormire. Quindi se vi capita di alzervi presto o di non andare a dormire, sappiate che oltre i tre pianeti potrete osservare anche le stelle cadenti che arrivano proprio da questa zona del cielo. Adesso ve la metto un attimino più al centro, così potete osservare con i vostri occhi. Eccole qui, le etta acquaridi. Proprio sembrano quasi uscire dal contenitore dell'acqua, dell'acquario appunto, da questo grande vaso che l'acquario ha in mano. Allora, rieccomi. Abbiamo visto dove cercare le stelle cadenti. Adesso, insomma, siete pronti per poterlo fare. Considerate che si potrebbero vedere anche stanotte, però il picco è il 6 maggio, giorno in cui ci sarà anche la luna piena. Faremo una diretta sulla luna piena. Non so ancora bene da dove, cercheremo di capire meglio la situazione. Speriamo di poterla fare all'aperto e spero di vedere anche voi prestissimo all'aperto. Volevo ringraziarvi per questo periodo. Io, insomma, ho cercato di fare qualcosa per, come vi dicevo dall'inizio, per distrarci un attimo, per pensare a qualcosa di diverso. E quindi, così sono nate le mie storie tra le stelle che ci hanno accompagnato in questo periodo di quarantena. Se vi sono piaciute, ovviamente, vi chiedo sempre di mettere un like, di condividerle, di mettermi qualche commento e, perché no, anche qualche suggerimento sui prossimi argomenti. Perché se vi sono piaciute, probabilmente continuerò. Intanto, con me c'è sempre stato Yoda, il mio alter ego, che mi fa sempre compagnia. Mi ha dato anche qualche suggerimento sugli argomenti da trattare in questo periodo e mi ha fatto, insomma, compagnia in questi giorni di quarantena. Adesso vi saluto. Mi raccomando, da domani cerchiamo di essere responsabili. Ovviamente, io non sono nessuno per dirvi che cosa fare, non mi permetto. Però, sarebbe bello, insomma, non tornare indietro. Questo è, insomma, quello che tutti quanti speriamo. Che questa quarantena, insomma, che da domani in poi si vada sempre avanti. Cioè, che ci siano più riaperture, che si possa uscire di più, che ci si possa vedere tutti quanti. Quindi, perché questa avvenga, dobbiamo fare attenzione adesso. Così, poi, finalmente, potremo uscire davvero tutti insieme a rivedere le stelle. A prestissimo, arrivederci e buonanotte.